L'unione fa la forza, in particolare se l'obiettivo da centrare è sociale. Le associazioni di Sarno e la parrocchia di Sant'Alfredo organizzano per lunedì 27 luglio l'evento Tutti Insieme per il Sociale. Una partita del cuore che vedrà sfidarsi amichevolmente sul prato dello stadio Felice Squitieri la squadra Amici per il Sociale contro la Croce Rossa Sarno. Lunedì 27 luglio dalle ore 18 presso lo stadio Felice Squitieri per fare cosa? Per raccontarci. Ogni associazione si presenta, si racconta quello che fa durante l'anno non solo ai concittadini di Sarno ma all'intera provincia. E poi concluderemo dopo le 20 con un incontro di calcio, una partita del cuore. Ecco una squadra che sfida la Croce Rossa di Sarno, tutti membri di diverse associazioni e anche alcuni iscritti in varie parrocchie della città di Sarno. Quindi è l'occasione per stare insieme un paio d'orette e più, per raccontarci e per vivere veramente un momento sociale e di fratellanza che penso che in questo momento e periodo ne abbiamo proprio bisogno. E' anche occasione per conoscere le associazioni di Sarno, quale evento migliore? Sì, questo è anche vero, abbiamo tantissime associazioni a Sarno prevalentemente occupate verso il sociale, quindi anche questa è l'occasione, è bene per potersi presentare e per potersi conoscere tra di loro.